Sindaco, stamattina un sopralluogo alla SOE, avete ufficialmente individuato la struttura adeguata per i cavalieri della Sartiglia? Sì, la SOE è una struttura comunale, i suoi gestori hanno subito dato la disponibilità alla risoluzione di questo problema. I cavalieri che hanno avuto l'ordinanza di demolizione giusta, peraltro, si sono trovati prima alla Sartiglia senza una casa, la chiamiamo così, c'è la struttura comunale della SOE che può tranquillamente accoglierli, abbiamo fatto un sopralluogo, sono stati eseguiti anche dei piccoli lavori, insomma ci saranno tre o quattro pariglie di cavalieri che saranno ospitati alla SOE. Le pariglie che ospitano qui alla SOE sono circa tre al momento, sono quelle che hanno avuto qualche problema e qualche difficoltà, soprattutto per tenere i cavalli e avere naturalmente la disponibilità dei box per la Sartiglia. Quindi è chiaro che questa è stata un'operazione certamente importante e ringraziamo la SOE per averlo fatto. Sono dei box abbastanza accoglienti, come comune stiamo contribuendo per poter renderli al meglio e quindi speriamo appunto che questi cavalieri possano trovarsi veramente bene in questa struttura che è certamente in grado di poter dare ospitalità a questi cavalieri.